Musica Quest'oggi nella sala consigliare di Palazzo Mosti c'è stata la presentazione del nuovo soggetto politico ALBA, Alleanza per i beni comuni, lavoro e ambiente. Erano presenti il portavoce protempore Nicola Sguera, il coordinatore protempore Rito Martinetti e l'assessore beni comuni del comune di Napoli Alberto Lucarelli, tra i promotori del movimento. Oltre a Gaetano Cantone ed Amerigo Cirvo ha preso la parola anche l'assessore alla cultura del comune di Benevento Raffaele Del Vecchio, che ha mostrato apertura nei confronti di ALBA. Il sodalizio ha parlato delle prospettive politiche e della sua collocazione nella sinistra italiana e sannita. ALBA è questo soggetto politico nuovo che è nato praticamente dopo le vittorie straordinarie referendali del giugno del 2011, dopo le vittorie anche al di fuori del sistema dei partiti di alcune amministrazioni comunali sempre il 2011, tra cui appunto Napoli. Ed è appunto un progetto di una soggettività politica completamente nuova rispetto a quella che ci ha passato appunto il ventesimo secolo, il secolo passato e il novecento, diciamo, col sistema dei partiti. Un sistema dei partiti tutto, come dire, orientato a tutelare la rappresentanza. ALBA invece si sposta, diciamo, il discorso della democrazia lo implementa attraverso una valorizzazione forte di tutti gli strumenti che attengono la democrazia partecipativa e la democrazia diretta. Tutto ciò è democrazia di prossimità, quindi valorizzazione dei territori. Tutto ciò non vuole essere, come ho detto prima, una contrapposizione con la rappresentanza, ma vuole determinare un miglioramento della qualità della democrazia della rappresentanza. È ovvio che c'è un progetto, diciamo, che è un progetto decisamente antiliberista. La nostra analisi è messa bene in evidenza come l'indirizzo politico espresso dalla maggioranza che sostiene il governo Monti e dal governo Monti stesso sia, diciamo, orientato a far uscire il paese dalla crisi attraverso forme di liberismo, proprio quelle che ci hanno portato in questo stato, diciamo, di devastazione dello stato sociale e della stessa Costituzione. E quindi Alba, diciamo, è una forza magmatica, è una forza che sta in Federazione della Sinistra, sta in Sede, sta in Età dei Valori, sta in PD, sta nei comitati, nei movimenti, nei sindacati. È una forza, ovviamente, che si costruisce intorno a contenuti. Siamo con Rito Martinetti, coordinatore del Nodo Sanita di Alba. Come giudica l'approdo di questo nuovo soggetto politico qui nel Sannio? È stato molto positivo, all'inizio è stata un po' una scommessa, diciamo, la cosa è partita da me, ho cooptato un po' degli amici che sapevo interessati alla politica, ma che erano distanti dalla politica, c'era questa grande crisi dei partiti, solo il 4% è interessato ai partiti, insomma, secondo le ultime inchieste. E quindi, niente, ho cercato degli amici vecchi e nuovi, diciamo, e niente, abbiamo pensato di poter creare anche qui un nodo di Alba. Tra l'altro Alba è un soggetto politico nuovo, ancora in formazione, in progress, quindi ancora, diciamo, è privo di uno statuto, lo sta realizzando, però già, diciamo, ha fatto delle cose molto importanti e soprattutto c'è una cosa, la cosa che ci ha convinto a fare Alba qui a Benevento è anche perché a livello nazionale abbiamo visto l'elenco delle persone che fanno parte di Alba, che sono delle persone incredibili, insomma, da Paul Ginsberg a Marco Revelli, a Luciano Gallino, insomma, al professore Lucarelli, che è venuto, Alfredo Lucarelli, che è venuto oggi qui a fare una relazione, lui è il presentatore del ricorso alla consulta contro la privatizzazione dell'acqua. Alba è un acronimo, significa Alleanza per il Lavoro, Beni Comuni, Ambiente. Lavoro è al primo posto nei nostri pensieri, diciamo, e tra l'altro ora a ottobre, ecco, per parlare anche un po' dei progetti di Alba, a ottobre, nella prima decada, ci sarà un incontro a Torino, in cui si parlerà, appunto, il centro come argomento è il lavoro e si parlerà anche di una proposta che già è circolata, è una proposta molto interessante, di Luciano Gallino, altro grande personaggio, che è un famoso sociologo del lavoro, che ha proposto una, diciamo, una riproposizione in forma aggiornata del New Deal, insomma, del 29 di Roosevelt, insomma, di vecchia memoria, che però riaggiornata potrebbe essere anche una soluzione in questo momento e che permetterebbe la creazione di centinaia e migliaia di posti di lavoro da parte dello Stato, insomma, con un ragionamento e un'articolazione molto precisa, lui ha fatto proprio precisamente il programma come fare e cosa fare, insomma, quindi non è solamente così un evocare una soluzione, ma ha proprio progettato la soluzione, insomma. Questo per quanto riguarda il lavoro. Poi i beni comuni, abbiamo detto, insomma, Lucarelli, avremo un comitato prossimamente che sarà allargato perché ci relazioneremo con Italia dei Valori, con SEL, con la FIOM, abbiamo un rapporto veramente molto forte con la FIOM e quindi praticamente ci sarà una raccolta di firme per un nuovo referendum che in un primo momento aveva organizzato l'IDV, ma poi ha fatto macchia indietro per, diciamo, renderlo più partecipato. E quindi è per la soppressione dell'articolo 8 berlusconiano e della, diciamo, la ripresa dell'articolo 18 che è stato soppresso, togliendo libertà sindacale nelle fabbriche, insomma. Grazie. Grazie.